La cosiddetta Movida di Piazza Muzi a Pescara non incide sull'inquinamento acustico e ciò che sostengono i gestori dei locali di food beverage del centro città che hanno commissionato un'indagine fonometrica, la prima ma effettuata, da un appartamento al primo piano di via Cesare Battisti tra venerdì 11 e sabato 12 giugno. In quella zona la legge prevede un limite di 65 decibel nella fascia diurna e di 55 in quella notturna. Di giorno i valori registrati si sono attestati intorno ai 60 decibel, quindi sotto il limite, mentre intorno ai 67 di notte, oltre 10 decibel sopra il limite. Il quartiere è vivo sia di notte che di giorno, commentano le associazioni di categoria. Le nostre attività non incidono negativamente. È vero che c'è un rumore antropico, ma il disturbo dei decibel come riferimento massimo non è mai avvenuto. Si è sempre velata da parte dei residenti la volontà di dire che si superavano i decibel consentiti dalla legge, però questo smentisce e tranquillizza un po' tutti, perché effettivamente se così è come è stato fatto e certificato da società, la situazione a Piazza Muzzi sarebbe molto meno problematica di quello che si dice. Quindi, nonostante la grande responsabilità degli operatori a non mettere più musica, a mantenere comunque una situazione di tranquillità, possiamo dire fine ad una situazione che ci portava dietro da anni nel colpevolizzare un'area e renderla comunque un'area sempre vittima di continue mutazioni in fatto di orari. Intanto il 24 luglio scadrà l'ordinanza comunale che in centro impone la chiusura dei locali a mezzanotte e mezza nei giorni feriali e alle due nel weekend. Terremo conto di questa indagine fonometrica nel valutare ulteriori restrizioni, fanno sapere dal comune. Confesercenti, CNA, Confcommercio, Confartigianato chiedono da sempre una condizione di tranquillità, nel senso che c'è una legge che dice che gli orari sono liberi. Noi con grande responsabilità in questo momento abbiamo sempre detto l'una e mezza, le due e mezza e pensiamo che in questa fase più calda della stagione ci sia una tranquillità su tutta la città di Pescara in maniera uniforme per consentire agli operatori di poter lavorare. Grazie. 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 Grazie.